www.redigio.it e la storia continua La Tosa della Porta Tosa Tosa in milanese significa ragazza, fanciulla Un termine innocente e dolce che invita a pensare Ma guarda questi bravi cittadini Hanno chiamato Porta Tosa una delle vie di accesso al loro comune Per ricordare l'altra metà del cielo, le loro gentili donzelle In effetti il gentil sesso c'entra in come Ma al nome Tosa potrebbe avervi contribuito una derivazione da tonza, rasata E spiegheremo meglio perché i termini della questione Non sono poi così romantici come sembrano apparire La storia nasce ai tempi dell'assedio in cui Barbarossa attannagliò la città Si parla dunque della metà del XII secolo E di una sortita tentata dai milanesi per rompere l'accerchiamento L'espediente consistette di mandare una di quelle donne Che esercitano la professione più vecchia del mondo Al di fuori delle mura per distrarre una delle pattuglie di Federico Nel frattempo gli assediati avrebbero tentato un colpo di mano E per attirare l'attenzione della soldataglia La meretrice mise in atto sotto lo sguardo di tutti Uno dei provvedimenti igienici imposti alle lucciole del tempo La tonsura di quella parte del corpo con la quale guadagnava ogni giorno il pane Possiamo immaginare i fischi, le volgare battute e gli sghignazzi dei militi Che immediatamente fecero a cappanello attorno alla prostituta Ma evidentemente l'iniziativa non consentì di raggiungere il desiderato obiettivo Di ribaltare la situazione bellica Altrimenti la storia, quella con la S maiuscola Beh, ce ne avrebbe parlato Rimane comunque il fatto che a Barbarossa sconfitto Gli abitanti non scordarono l'episodio della coraggiosa donnina di vita E vuole remoltrarlo collocando sopra l'arco della porta una scultura molto osè Si trattava infatti di una statua riproducente una ragazza ignuda Che forbice alla mano e nel lato di trozarsi è proprio lì Qualcuno assicura che le fattezze della femmina a pietra Abbiano avuto notevole somiglianza con l'imperatrice Beatrice Moglie del Barbarossa Lasciando intendere che i milanesi Si fossero tolti la soddisfazione di darle della Per farla breve Quell'accesso alla città prese il nome di Portatosa E con un tal simbolo posizionato in bella vista Era inevitabile che il quartiere divenisse punto di ritrovo Per le donne avviate alle carriere del piacere La statua fu rimossa qualche secolo dopo da San Carlo Borromeo In quanto egli la ritenne oscena Ma chi vuole ammirarla non fa che ricarsi presso il Museo d'Arte Antica del Castello Sponsesco Via la statua il nome di Portatosa rimarrà fino al 22 marzo 1848 Quando dopo la ritirata degli austriaci di Radeschi Per quella strada assumerà l'attuale denominazione di Porta Vittoria www.redigio.it E la storia continua Grazie a tutti